Un'esecuzione di 20 brani a opera del gruppo arrangiato e diretto dall'argentino Aleandro Fasanini. Tradizionale o contemporaneo, l'importante è che sia tango. Domenica 15 giugno, presso la sala riunioni del centro pastorale diocesano, sono stati ospitati gli amici dell'Africa Chiama, che per sostenere i progetti sanitari avviati in Kenya, Tanzania e Zambia, hanno organizzato il concerto per la vita. Due bandoneon, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, percussioni e pianoforte, hanno accompagnato la delicata e calda voce di Valeria Visconti. Le musiche eseguite sono il frutto dell'ultimo lavoro discografico realizzato dal gruppo e recentemente pubblicato da Videoradio e Rai Trade. Musica d'autore, quindi, che ha saputo coinvolgere anche chi non è esperto di tango, travolgendo il pubblico con la sua carica passionale in grado di emozionare su temi come l'amore, la nascita di un figlio o la guerra. Musica d'autore, 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 di un figlio o la guerra. Applausi. 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 Applausi.